Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità di parlare. Olivetti innanzitutto cosa fa? Che magari non lo sanno tutti ancora, è nel gruppo team e si occupa della digital factory dell'IoT, cioè Internet delle cose, del gruppo team. E quindi si rivolge alla parte enterprise del mondo team, quindi le aziende, pubblica amministrazione. E tutto questo ovviamente noi ci cibiamo di innovazione, perché quando si parla di IoT, Internet delle cose da portare nel mondo delle aziende è componente fondamentale. Allora noi facciamo tanto, usiamo tanto il paradigma dell'open innovation, in particolare con R&D interno, perché chiaramente si deve partire da quello, utilizziamo molto anche player del dominio IoT, cioè aziende che operano già. Perché l'IoT, non so se tutti lo sanno, è un settore molto frammentato, in cui in alcuni ambiti è difficile trovare il champion di grandi dimensioni. Quindi è molto efficiente e utile utilizzare piccole realtà che magari hanno delle verticalità di eccellenza, sia in Italia che all'estero. Quindi i player sono un altro elemento. Si è citato prima, e mi ha fatto molto piacere, università o poli di innovazione, perché questi sono il centro di competenze e di, se volete, di quell'aspetto dell'innovazione che non ha ancora un mercato, e che fa fatica a trovare mercato, ma è necessario per farne partire delle altre. E quindi usiamo molto università. Quasi tutti i nostri esempi di open innovation hanno dentro, in qualche modo, poli di innovazione o università, che ci hanno aiutato a mettere dentro dei pezzi di competenza. E infine, una cosa particolare del mondo enterprise, un elemento fondamentale dell'open innovation è il cliente, che spesso è parte di questo percorso, anzi è quello che ne traccia inizialmente la rotta. C'è una frase famosa di Steve Jobs che diceva sempre che non dava tanta importanza alle ricerche di mercato perché il cliente non sapeva cosa voleva. Se gli avessimo chiesto qual era il miglior smartphone da lanciare avrebbero detto un Blackberry con più tasti. In realtà si sono innamorati di un telefono con un tasto solo. E quindi non lo sapevano. In realtà questo vale per i consumatori privati e non sempre, tra l'altro. Nel mondo dell'azienda invece spesso all'interno dell'azienda ci sono le persone che sanno esattamente cosa serve loro. Solo che non lo hanno ancora fatto, non l'hanno ancora trovato. E quindi il cliente parte di questa open innovation. Spesso si parte da un cliente, si costruisce un prodotto, lo cerchiamo di sviluppare il più possibile a micro servizi in modo da poi poterlo riutilizzare per i clienti successivi che hanno esigenze simili. Insomma, questo è un po' il modello che noi utilizziamo. I player portano le competenze, le università le competenze che non hanno ancora mercato, noi tutta la parte R&D e gli asset del gruppo team e i clienti spesso con quelli che tracciano poi la rotta di quello che serve veramente a questo mercato. L'interessante è che quella dei clienti è una delle strade che meno si citano all'estero e più si sperimentano in Italia perché è un classico del B2B italiano, lavorare quasi su misura con il cliente, c'è una mentalità profonda da questo punto di vista e una grande complicità con il cliente, ma la ringrazio di averlo detto perché invece nel mondo dell'open innovation si parla di tutte le... l'apertura a tutti i player che producono l'innovazione ma si citano raramente. Esatto, quindi questo è un importante... Dal punto di vista della cultura aziendale Olivetti fa parte di un gruppo che appunto crede talmente nell'apertura che si è fatto in tre aziende o quattro in modo che possano collaborare di più all'esterno ma mi corre in qualche modo l'obbligo di ricordare l'Olivetti storica che tra i suoi grandi pregi aveva dimostrato un grande difetto quando sosteneva che prima di tutto contava sull'innovazione interna. Not Invented Year era un marchio di infamia se non è fatto dall'Olivetti non lo vuole e quindi è un po' il contrario dell'open innovation e quindi il contrario di quello che state pensando per il futuro. Sì, allora chiaramente poi noi dobbiamo guardare il passato imparare il passato ma dobbiamo guardare il futuro. Erano altri tempi chiaramente non c'era il digitale e molto dell'open innovation come è stato citato prima è abilitato dal digitale altrimenti sarebbe difficile in una produzione nella linea di produzione di macchine da scrivere inserire proprio fino in fondo il concetto di open innovation e quindi insomma i tempi sono cambiati. L'altra cosa che è cambiata è che negli anni 50 se passavano 5 anni il mercato lo ritrovavi più o meno come l'avevi visto all'inizio e quindi ti potevi permettere dei cicli di innovazione a compartimenti stagni tanto quello che avevi pensato 5 anni prima te lo ritrovavi anche dopo. Qui se pensiamo nel 2017 che qualcuno ha iniziato un'innovazione che sboccava adesso si è trovato atterrato nel borneo non trova più i riferimenti dove gli elementi sono validi quindi l'open innovation è abilitata dal digitale e resa necessaria perché altrimenti stiamo parlando del nulla. Adesso faccio magari un esempio dell'open innovation se no magari rimango con un discorso generico per esempio noi abbiamo una piattaforma che si chiama Urban Genius che è di fatto una piattaforma di Smart City quindi si rivolge alla pubblica amministrazione locale questa cosa fa prende tutte le informazioni che già esistono nella città magari non lo sapete ma nelle città esiste trilioni di informazioni che vengono raccolte ogni minuto e ne aggiungiamo altri con sensori banalmente localizzazione dei mezzi pubblici sensori di allagamento sensori meteo sensori dai satelliti e così via tutte queste informazioni vengono messe insieme poi vengono aggiunti Big Data Analytics che ha il gruppo team banalmente la localizzazione è anonima delle persone con una sim che affollano le città e si muovono e questa analisi di queste informazioni arricchisce tutto questo patrimonio di dati e poi con uno strato di intelligenza artificiale si possono attivare degli use case molto interessanti per un sindaco banalmente sapere domani come sarà la situazione del traffico perché sono molto capace a capire cosa è successo ieri ma domani è difficile allora analizzando le serie storiche il meteo tutti i fattori chiave che innescano fenomeni di congestione e di traffico ti permettono di dire guarda che domani sulla Cristoforo Colombo a Roma sarà un disastro perché magari c'è una manifestazione oppure fenomeni di what if cioè se c'è una manifestazione chiudo questa strada cosa succede? se inverto questo senso unico cosa succede? sono tutte informazioni importanti e anche in situazioni di emergenza fenomeni climatici o qualsiasi cosa poter coordinare i soccorsi sapere esattamente cosa succede proprio contando su decisioni informate allora questa piattaforma come l'abbiamo sviluppata? abbiamo detto siamo partiti da un cliente il cliente è stato Venezia che è stato precursore di questo modello e abbiamo sviluppato con Venezia questo prodotto in un modo che adesso è rivendibile per tutti gli altri clienti chiaramente non uguali o simili a Venezia ma che possono sfruttare queste cose con l'università del Politecnico di Milano e l'università di Bologna che ci hanno dato anche tutti i modelli di analisi della mobilità che sono modelli molto avanzati più avanzati di quelli che si trovavano nel commercio e ovviamente arendi interna asset di team ma anche un'azienda come dicevo prima un player di dominio IoT che era fabbrica digitale che ha creato uno spin off proprio per costruire questo prodotto che adesso qualche mese fa un paio di mesi fa abbiamo acquisito e che abbiamo portato dentro per poi dare un respiro più ampio a questo prodotto quindi di fatto è stata una start up all'interno di un'azienda che abbiamo lanciato con un cliente abbiamo arricchito con altri pezzi di cultura delle università e poi abbiamo acquisito per poter dare un respiro di scala a un prodotto che altrimenti sarebbe rimasto un prodotto questo è un po' per dare un esempio pratico di come si può fare e questo è avvenuto per via di open innovation non per via di integrazione di sistema perché è interessante il cliente diventa parte integrante della concettualizzazione di innovazione e le università piuttosto che altre aziende sviluppano non come fornitori ma come partner del concetto innovativo ciò che ci si può fare tra l'altro open innovation e anche riconfigurare i modelli di business su un tempo devo ammettere che se vedete il colore dei miei capelli insomma quando è cominciata la storia dell'IoT era l'internet delle cose punto e basta quindi si vendevano delle cose connesse mentre il modello di business era vendere quelle cose adesso qui stiamo parlando di big data di intelligenza artificiale di una piattaforma di quello che avviene una volta che hai connesso queste cose eh sì perché connette le cose fornisce dati tantissimi dati equivale a averne nessuno perché poi dopo non si possono maneggiare quindi è importante avere strati di servizio e intelligenza artificiale allenata sugli use case specifico per poter dai dati estrarre informazioni prendere decisioni grazie Wango Ndin grazie a voi grazie a voi grazie a voi